Però mi lasci dire qual è la mia perplessità di fondo sulla stretta del Super Green Pass. L'obiettivo che abbiamo tutti davanti è sconfiggere la pandemia e sappiamo che l'arma principale è il vaccino. Quindi dobbiamo convincere il maggior numero di persone a farsi il vaccino. Si è scelta la strada di fare un vaccino non obbligatorio, facoltativo. Però io penso che lo Stato debba parlare ai cittadini in maniera chiara, diretta, responsabile. Non deve mai dare l'impressione o il sospetto che ci sia qualcosa dietro o che non si fidi o che ti voglia fregare. Ma lei ha l'impressione che ci sia qualcosa dietro? Non io, io mi sono vaccinato, quindi io non ce l'ho questa impressione. Però c'è una fetta importante di popolazione che questo messaggio negativo l'ha ricevuto. Perché quando lo Stato ti dice sei libero, puoi non vaccinarti, però se non ti vaccini, non vai a lavorare, non prendi lo stipendio, adesso non vai neanche al cinema a ballare, a divertirti, tra un po' ti devi mettere in ginocchio sui ceci. È chiaro che quello che si va a vaccinare è costretto, magari non era convinto, ci va per costrizione. Quando ci va deve firmare foglio di carta in cui c'è scritto ti sei vaccinato di tua spontanea volontà, firmi anche le liberatorie. Se succede qualche cosa, in tribunale lo Stato si difenderà dicendo se tu che hai scelto di vaccinarti, non era un obbligo, non c'è l'indennizzo. Questo messaggio passa. Però lei sa benissimo che non è così. L'indennizzo è previsto, anche in questo caso esiste già una legge dello Stato e c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che nel caso in cui siamo in presenza di una vaccinazione che tutela non la libertà del singolo ma un interesse di tutela della salute e della comunità è assimilabile al vaccino obbligatorio. Quindi già oggi nel nostro Paese esiste una legge, esiste un capitolo, esistono le risorse a disposizione. C'è una sentenza, cioè tu se ti capita un caso avverso devi andare in tribunale a fare causa. Questa è la verità. Bisogna segnalarlo. Allora perché? Qual è l'automatismo? Io dovrebbero dare l'esercimento. No, 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 non sto dicendo automatismo. Cioè questa norma è prevista per i vaccini obbligatori o fortemente raccomandati. Quando è stato chiesto in Parlamento di esplicitare questo messaggio la risposta è stata no. È stata sempre respinta. Su questo messaggio lo Stato non ha dato un messaggio chiaro. Se lo dà è meglio. e io ho proposto, inseriamo l'indennizzo nelle norme, questo decreto legge, adesso si poteva scrivere in decreto, si converte in Parlamento, si scrive in una maniera chiara e inequivocabile che lo Stato dà questa garanzia, io credo che una parte dei cittadini che oggi non si sono vaccinati andranno a vaccinarsi più tranquilli. Perché dice che non c'è ancora con chiarezza e dice che c'è. Io dico che oggi assolutamente nel caso di una presenza di un evento avverso, anche di fronte alla vaccinazione del Covid, è previsto un indennizzo. È chiaro che l'evento avverso deve essere accertato, verificato, dimostrato, questo mi pare fin anche ovvio. Deve essere anche grave, nessuno viene indennizi per un mal di testa. Ora, credo che puntare su questo argomento, sembra quasi voler mettere in evidenza che siamo di fronte a un vaccino non sicuro, che lascia aperto a spazi a dubbi, nel momento in cui c'è già un elemento di garanzia per il cittadino e lo Stato se ne fa carico, io credo che rischia di diventare una discussione che alimenta invece la confusione dell'opera pubblica. Ti prego di non mettermi in bocca le dichiarazioni che non ho fatto. Io sto descrivendo, perché li incontriamo sul territorio, questi comitati, persone, e ci discutiamo anche. Io li ho incontrati e la prima cosa che gli ho detto, ovviamente andatevi a vaccinare, fidatevi dei medici, perché con umiltà noi dobbiamo ascoltare innanzitutto i medici quando scoppia una pandemia. Nessuno ci ha insegnato ad affrontarla e come Presidente di Regione mai avrei pensato come uomo di dovermi occupare di questo, non avrei fatto medicina se avessi pensato di dovermi occupare di questo. Ho fatto un altro mestiere, altri studi e mi sono trovato in una tempesta incredibile. Quindi con umiltà dobbiamo ascoltare i medici, però quando i cittadini ti pongono questi dubbi e le risposte sono ambigue, perché, ripeto, dire c'è stata una sentenza che ha riconosciuto un diritto, e perché non la traduci in legge? Perché non lo scrivi? Non aiuterebbe? Che male farebbe allo Stato? Io non trovo utile continuare a alimentare un dibattito su questo tema che genera confusione e incertezza nei cittadini nel momento in cui siamo di fronte a un capitolo di bilancio, a una legge dello Stato che prevede già l'indennizzo in caso di avvento avverso. Credo che continuare su questo tema rischiamo di veramente veicolare incertezze da parte dei cittadini. Gli dà, professor Rasi, di questo Green Pass obbligatorio in tante situazioni? Ma il Green Pass sostanzialmente, da un punto di vista di salute pubblica, discrimina una popolazione a minor rischio da una popolazione a massimo rischio. Questa è la funzione dal punto di vista scientifico. Poi ci sono dietro complessità che gestisce la politica e il territorio. Ma questo è il grosso significato che è fondamentale perché per quanto non siano mai valori assoluti una popolazione vaccinata ha un rischio noto o comunque misurabile nel tempo o a intervalli regolari e si sta facendo. Una popolazione non vaccinata ha un rischio massimo in questo caso e un rischio che comunque dipende molto anche da un comportamento, mentre è meno legata al comportamento l'altra. Quindi avere una discriminante fondamentale del livello di rischio può permettere di decidere che rischio si vuole prendere. È il discorso del tampone. All'inizio si aveva 20% di vaccinati che potevano trasmettere il virus e 20% di tamponati che potevano trasmetterlo. Ora il tampone allargato così è sceso al 60%. Il vaccino è sceso di un alto 10-12% per il declino dell'immunità. Il green pass iniziale, il rischio iniziale pensato che ha funzionato bene per 2-3 mesi non è più quello calcolato e va aggiustato.